Il primo memoria Alessandro Criscitiello sulla giudica Lavellino che ha battuto la folgore caratese squadra di Serie D per 3 a 2. Una partita non proprio brillante da parte degli uomini di Mister Rastelli che non hanno entusiasmato sul piano di gioco rispetto all'ultima amichevole giocata contro la Nocerina. La partita si apre con il gol di Patieren a quarto minuto di gioco che raccoglie un cross di Varela dalla destra e insacca il pallone in rete. La risposta della folgore caratese non si fa tendere e arriva il pari con la rete di Panatti che si accentra e lascia partire un sinistra giro che termina l'incrocio dei pali. Niente da fare per Guidotti, pareggi immediato degli ospiti. Al diciassettesimo del primo tempo arriva il corner battuto molto bene da Tito che trova ad uscire Cionec che svetta al centro dell'area di rigore di testa e fulmina piga. Al 45esimo del primo tempo Chiere Matenga lasciato troppo solo al limite dell'area Benedetti esce in ritardo, prende la mira e infila Guidotti all'incrocio dei pali realizzando un altro splendido gol con l'estremo difensore bianco-verde che nulla può. Il primo tempo si conclude sul punteggio di 2-2 con la folgore che tiene testa e lupi. Nella ripresa però la gara si mette subito a favore degli uomini di Rastelli. Nuovamente da calcio da fermo, Patirno svetta ancora al centro dell'area di rigore sui sviluppi di un corner, un gran colpo di testa e doppietta personale per lui. Questa sarà la rete decisiva con l'Avellino che durante il secondo tempo ha sfiorato più volte il gol del 4-2 senza mai trovarlo. Certamente questa partita è stata condizionata dalla stanchezza e dalla pesantezza nelle gambe, ma certamente ciò che si evince in questo momento nel precampionato è la necessità di modificare qualcosa a centrocampo con D'Angelo e D'Alloglio che non convincono pienamente. In particolare Sonny D'Angelo apparsa macchinoso nelle giocate, un piccolo campanello d'allarme per Rastelli che avrà tempo per lavorarci sopra perché in quella zona del campo si viene a creare un vuoto che mette in difficoltà Palmiero, quinta munizione in 5 amichevoli e la linea difensiva che non vede effettuare un prefiltraggio in mezzo al campo, critiche costruttive per ottenere risultati importanti in campionato.